Noi abbiamo messo a sistema tre aspetti. Il primo è quello delle assunzioni, cioè dopo tante chiacchiere la Giunta Ghinelli ha iniziato ad assumere. Lo ha fatto lo scorso anno con sette educatori, lo ha fatto quest'anno con sei educatori, lo farà fino alla fine del mandato, riassumendo tanti quanti sono gli educatori che vanno in pensione. Altrettanto invece continuiamo nel mantenimento anche delle scuole che sono in affidamento e faremo questo lavoro attraverso un bando di tre anni che arriverà quindi alla fine della nostra consigliatura nel 2020 e che mette in sicurezza tutto il sistema educativo della città di Arezzo attraverso un bando che insieme alle assunzioni di fatto copre tutte quelle che sono le scuole 06 della città di Arezzo. Un bando di 9 milioni di euro, dico la cifra che qualcuno dice che noi sulla scuola risparmiamo, no, noi sulla scuola investiamo, di 9 milioni di euro che permetterà anche due momenti sperimentali, in particolare quello di ipotizzare un prolungamento orario in una scuola a gestione diretta per arrivare ad avere la possibilità per alcune famiglie che hanno lavori atipici di poter tenere i loro bambini nelle scuole sia nel nido che nella materna. Faremo una sperimentazione e vediamo come funziona. Rimane l'impegno diciamo così di sostenere il convenzionamento al 100%, il privato non è brutto e cattivo ma il privato è buono quando lavora bene e qui ce n'è di molto e questo ci permette di aver raggiunto il risultato e cioè che nella fascia 12-36 mesi le liste di attese sono zero e questo mi permette di dire, anzi abbiamo due posti vuoti e questo mi permette di dire che la polemica politica fatta sulla chiusura del cedro se oggi si dimostra quella che era, cioè mio o più strumentale. Se oggi avessimo ancora il cedro aperto avremmo 48 posti vuoti nel sistema educativo della città di Arezzo. Se questo è gestire bene le risorse credo che non ci sia molto da imparare da chi ce lo suggerisce. Il convenzionamento, le assunzioni, il bando permettono a questa città di avere un orizzonte temporale lungo di una offerta formativa efficiente il cui patto formativo abbiamo stabilito con le famiglie e la cui soddisfazione delle famiglie oggi oscille intorno all'85%.